Buongiorno e buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi carissimi telespettatori di Fano TV, sintonizzate come sempre sul canale 17 del Digitale Terrestre, visibile su tutta la regione Marche e anche sui nostri social, così come sulla pagina di occhioallanotizia.it, saluto anche tutti coloro che ci seguono per la prima volta, sono sempre tanti, ogni giorno ne abbiamo di nuovi, e allora ben ritrovati anche a coloro che invece ci seguono ormai da tantissimo tempo, oggi è San Francesco, San Francesco è il patrono d'Italia, allora affidiamo anche a lui, questa povera Italia che sta andando verso il baratro, e allora cominciamo a vedere anche il tempo, andiamo subito a vedere il tempo con le previsioni di trebimeteo.com Il titolo d'apertura, forte perturbazione tra lunedì e martedì con intensi temporali, uno sguardo all'Italia in generale, eccola qua, alle 6 del mattino, poi a mezzogiorno, vedete interessato soprattutto del nord dell'Italia, il nord-ovest, mentre la giornata di martedì, vedete il maltempo interesserà anche la regione Marche, a mezzogiorno il tempo sarà buono, ma soprattutto al mattino. Mercoledì la situazione con un po' di pioggia variabile, i temporali intorno alle 18 e piogge intense anche nella giornata di giovedì, quindi mercoledì e giovedì per quanto riguarda le Marche sicuramente sono le due giornate più intense. Allora i giornali, i giornali del lunedì con tante pagine dedicate allo sport, al calcio in particolare, andiamo a vedere quello che scrivono il Corriere Adriato e il resto del Calino, cominciamo dal Corriere di Pesaro. Centro storico, Operazione Decoro, si parla di arredo urbano e di sosta selvaggio, il Comune sistema l'area Cenerentola di Piazzale Primo Maggio, il Presidente dei quartieri Storoni dice abbiamo ascoltato le richieste di residenti e di commercianti, mentre alla festa di questo ragazzino di 18 anni arrivano i carabinieri perché? Perché piombano in 500 alla sua festa e quindi assembramenti non controllati che sono stati gestiti al meglio dalle forze dell'ordine. Bimbo di 10 anni a Piobbico cade dalla bicicletta ricoverato al Salesi, affano Tempio Misterioso sotto Sant'Agostino, una nuova ipotesi, vedremo qual è. Oggi alle urne usciranno i nomi dei sette sindaci in provincia, così come nel resto della regione, poi di taglio basso, richieste le dimissioni del Presidente di Aset, la Lega dopo la notizia del ritiro dell'assunzione anomala, Fratelli d'Italia attacca la Giunta, non ha rivelato il provvedimento. Poi il Fano che centra la prima vittoria, Castelfidardo superato per 2 a 1. Pesaro, il Carlino, si autoinvitano in 500 sgomberati carabinieri all'agriturismo Chigio, dove i giovanissimi all'insaputa dei titolari si erano dati appuntamento. Poi centropagine il primo cittadino a Mercatino Conca, già stato eletto il sindaco, per gli altri invece le urne sono aperte fino alle 15, poi la cronaca microauto guidata da un ragazzino travolge un pedone, terze dosi tocca agli over 80, intanto calano casi e ricoveri, sul turismo il risico degli hotel dopo il Lido anche il Vienna passa di mano. Un atterraggio d'emergenza per un paracadutista, problemi nel lancio, questo è successo a Fano, poi l'incidente si schianta in monopattino, grave un 62N. Poi c'è lo sport, sempre sulla prima del Carlino, Aza Petrovic il coach della VL dice bene Larson, l'ideale per noi, l'autore analizza l'impatto dell'americano ma subito in quintetto può essere un rischio, mentre il calcio di Serie D, assegno Tortori e Casolla, il Fano Brinda, primo successo in campionato per l'Alma, mercoledì il recupero in Abruzzo. Allora andiamo a vedere come stanno andando le cose perché oggi, ripeto, in tutte le marche, in tutta Italia si vota in alcuni comuni per eleggere i nuovi sindaci, nelle marche l'affluenza è in calo, titola il Corriere Oggi, chiamati al voto 180.000 persone, eventi diritto, oggi è il giorno dei sindaci, urne aperte in 28 comuni, fare puntate su San Benedetto e Castelfidardo che sono i due comuni con più di 15.000 abitanti. Per il resto, vedete, nella provincia di Pesurbino, lo ricordiamo ancora, si vota Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Gradara, Mercatino Conca, Mondavio e Mondolfo. In provincia di Macerata, Bolognola, Castel Raimondo, Esanatoglia, Morovalle, Muccia, Porto Recanate e San Severino Marche, mentre nella provincia di Ancona, Camerano, Castelfidardo, Cupra Montana e Santa Maria Nuova. In provincia di Fermo, a Monte, San Pietrangeli, Monte Granaro, Ortezzano, Petritoli, Rappagnano e in provincia di Ascoli Piceno, Acquasatta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montagallo e San Benedetto del Tronto. Allora, andiamo sulla pagina sempre del Corriere Adriatico, pagina 12, Pesero e Provincia, il titolo Bel Tempo, il Bel Tempo allontana gli elettori dai seggi, il sindaco di Mercatino può già festeggiare. L'Havanna ha confermato con l'affluenza il 46%, partecipazione al voto ovunque in calo, ma si può recuperare fino alle 15 di oggi pomeriggio. Quindi per chi abita nei comuni che ho appena elencato sappia che può andare a votare ed è giusto, credo, si andare a votare fino alle 15 nel proprio comune per eleggere il futuro sindaco. Come dicevamo, rispetto all'ultima elezione, in questi comuni c'è un calo, però va detto anche che all'epoca si votava, l'ultima volta si è votato solo in un solo giorno, questa volta c'è anche il lunedì. Ecco, andiamo a vedere anche gli altri due titoli, Fermignano, i competitor alle urne di prima mattina, stiamo parlando di Emanuele Feduzzi e Delfina Betonica, che sono i due candidati che si sfidano a Fermignano. Poi a Mondolfo invece, Mondolfo non ha fretta ad agio nelle 15 sezioni, qui vedete Nicola Barbieri e Anteo Bonacorsi, che hanno già votato, come d'altra parte hanno già votato anche tutti gli altri. Vedete le fotografie qua sopra, tutti alle urne già nella giornata di domenica. vedremo poi nel corso del pomeriggio, insomma vi aggiorneremo stasera nel telegiornale, vi daremo conto di tutti i risultati. Allora, chi di voi si ricorda la festa dei 18 anni? Beh, insomma, qualcuno sì, qualcuno no, ma sicuramente questo ragazzino se lo ricorderà, perché sono intervenuti anche i carabiniere a questa sua festa. Ne aveva invitati, come scrive Luigi Benelli sul Corriere questa mattina, lui ne aveva invitati un centinaio di amici. Poi sono arrivate anche tutti gli altri, 500 giovani, calca fuori dal locale, arrivano i carabinieri, non solo invitati, un tam-tam social fuori controllo, ha portato centinaia di imbucati a radunarsi nel parcheggio, all'esterno dunque del locale, dove si sono ritrovate queste 500 persone. È successo sabato sera in un agriturismo nelle immediate vicinanze di Pesaro, nella zona nord, che è stato preso d'assalto. Era la festa, almeno così si è capito, di un diciottenne che ha invitato un centinaio di amici per trascorrere la serata insieme. Qualcosa però è andata fuori controllo. Al momento non ci sono state denunce, ma la consapevolezza, la considerazione che si fa certamente è che questi giovani hanno una gran voglia di divertirsi, di tornare in qualche modo alla vita di prima per qualcuno. Intanto andiamo a Piobbico, dove un bambino è caduto dalla bicicletta, tre ambulanze in soccorso, momenti concitati per questo piccolo che è stato poi trasferito con l'elicottero al Salesi. Tutto è cominciato a metà pomeriggio, scrive Eugenio Gulini. Ad un certo punto questo bambino che stava in bicicletta insieme con i genitori è guardato a vista. A un certo punto, dicevo, questo bambino ha perso l'equilibrio, è caduto a terra procurandosi un trauma al costato. Ha perso i sensi, sono arrivate queste tre ambulanze da Urbani, da Urbino e da Cagli. Poi a un certo punto si è deciso di portarlo al torrette di Al Salesi di Ancona con l'elicottero. Poi alla fine il bambino, così scrive il giornale, in serata reagisce, ha reagito alle sollecitazioni, le sue condizioni sono in via di miglioramento. Mentre sicuramente, e qui scrive bene il giornale questa mattina, un episodio tutto da censurare all'ospedale di Torrette di Ancona. Andiamo a vedere questo articolo. Arriva all'ospedale con i figli, questa persona dice respiro male, ho il Covid. Ma invece di chiamare l'ambulanza, questa donna di 45 anni, originaria dell'Est, pensate, si è fatta accompagnare dai figli. Ecco, la cosa più insensata che si potesse fare. Le regole chiaramente sono state violate, ma nel momento in cui arriva il triage e ti dice così, la prima cosa da fare è mandare a casa i figli, mandarli subito in quarantena, farsi i tamponi, e naturalmente ricoverare la donna. E scrive così il giornale questa mattina, Claudio Comirato, sulla pagina di Ancona del Corriere di Oggi. Allora, positiva al Covid, invece di chiamare l'ambulanza, si fa portare in ospedale dai due figli. Ennesimo episodio, tutto da censurare al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, dove sabato mattina al triage si è presentata una donna di 45 anni accompagnata dai due figli. Alla richiesta da parte dell'infermiere di sapere per quale motivo fosse lì in ospedale, la donna non ha esitato a raccontare di essere positiva al Covid e di essersi fatta accompagnare dai figli che erano con lei per un principio di difficoltà respiratoria. La donna, originaria dell'est Europa, nell'area Covid, è stata messa subito nell'area Covid, e poi ovviamente i figli sono stati invitati ad andare a casa a mettersi in isolamento. Ora, come scrive giustamente Comirato, da oltre 18 mesi, cioè da quando esplosa la pandemia, in Italia non si fa altro che ripetere che in caso di positività al Covid per recarsi in ospedale è necessario ricorrere al 118, proprio per garantire il trasporto del paziente al pronto soccorso in piena sicurezza, invitando i familiari a rimanere in casa per il periodo della quarantena. Sembra quasi di essere tornati indietro nel tempo, ma ascoltate come chiude l'articolo. Casi come questi, quindi come quello della donna che si è fatta accompagnare dai due figli, al pronto soccorso di Torrette sono all'ordine del giorno. Basti pensare che la scorsa settimana un'intera famiglia originaria del Bangladesh, tutti contagiati dal virus, non hanno esitato a prendere l'autobus per recarsi all'ospedale. Cose dall'altro mondo. Dopo 18 mesi siamo ancora qui a dover dire che se qualcuno ha i sintomi non deve andare all'ospedale da solo o accompagnato da qualcuno, ma deve chiamare il 118. Sembra di essere veramente tornati a due anni fa. Però purtroppo ancora questa cosa non è entrata. Molti fanno gli eroi, ecco perché le terapie intensive ancora si riempiono, perché ai sintomi fanno finta di niente e poi dopo quando non respirano più chiamano oppure peggio si fanno accompagnare dicendo di avere il Covid. Questo è quanto. Allora adesso andiamo invece a vedere l'altra cronaca dal Carlino di Pesaro. Vole dal monopattino, sull'asfalto è grave, l'incidente è avvenuto ieri mattina a Tre Ponti, siamo a Pesaro. Il ferito ha 62 anni ed era partito da Gradara per raggiungere Pesaro con le due ruote. Un incidente che è avvenuto intorno alle 11.50. Poi un'altra notizia di cronaca, sempre sul Carlino, si incendia una mini durante la marcia, una mini Cooper, una macchina, condotta da un cinquantenne che ha preso fuoco accidentalmente ieri mattina lungo la Monte Labattese e poi una microauto guidata da un sedicenne che ha investito un pedone alla rotatoria, un ragazzino di 16 anni che ha travolto un pedone di 54 anni in via Solferino, all'altezza della rotatoria dell'Ipercop, intorno alle 7.10 del mattino. A Fano invece capita spesso quando si è in autostrada e c'è la giornata dei lanci col paracadute, capita spesso, sì, capita spesso. Noi tante volte abbiamo ricevuto telefonate di persone che dicono guardate che probabilmente è caduto un paracadutista, è morto un paracadutista, non si è aperto un paracadute. Succede, succede tant'è che quando ci arrivano queste telefonate ormai non disturbiamo più nemmeno la scuola di paracadutismo perché tanto sappiamo già la risposta. Però il giornale oggi ne parla, è caduto un paracadutista, era solo il telo, allarme ieri dopo alcune segnalazioni, un allievo costretto ad un atterraggio d'emergenza, l'attrezzatura principale non si è riaperta. Succede spesso, succede spesso, dicono quelli della scuola che non si apra bene e per questo va subito lasciato andare. Ma c'è sempre quello di emergenza che poi risolve tutto. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico, Reginelli si dimetta e Fratelli d'Italia tacca la giunta seri. Si parla di questa assunzione anomala che fa esplodere questo caso politico. Mascarin non ha comunicato il ritiro già firmato. Sotto invece no ai rifiuti industriali in discarica, così si evita l'ampliamento. Mentre l'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico si occupa dei resti misteriosi sotto Sant'Agostino. Dubito sia il Tempio della Fortuna, qui c'è un refuso il tempo, ma in realtà il Tempio della Fortuna. Lo dice il professor Oscar May che formula una nuova ipotesi interessante sulle vestigie romane sotto la Chiesa. È un articolo che vi invito a leggere di Massimo Foghetti soprattutto per chi è affascinato da questo mistero di tutto ciò che c'è sotto la città di Fano. Fano è una città sulla città, quindi sotto c'è ancora tanto da scoprire, tant'è che chi vuole conoscere i risultati di uno studio fatto col georadar il 12 ottobre nella Sala Verdi verranno illustrati i risultati di quei rilievi ottenuti appunto con il georadar di tutta la superficie di Piazza 20 Settembre. Ecco, con questo georadar si è mappato tutta la parte sotto, quindi chi vuole sapere che cosa c'è sotto Piazza 20 Settembre c'è questo appuntamento il 12 di ottobre nella Sala Verdi e quindi anche qui sarà interessante capire un po' di cose, insomma, ecco, cosa c'è sotto Piazza 20 Settembre. Intanto, cosa c'è sotto il tracciato di Adriatic Link è un pensiero, un problema che si pongono gli abitanti di Lucrezia che sono preoccupati di questa centrale elettrica che dovrebbe essere realizzata da Terna per collegare Carrara con appunto Lucrezia. C'è questo comitato che è nato, che ha timori, che è preoccupato per le sorti del proprio comune, del proprio territorio. Intanto il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi si è detto soddisfatto per la partecipazione. C'erano oltre 100 persone tra dentro e fuori nella sala, nella palestra di Lucrezia dove appunto c'è stato questo incontro e soprattutto un incontro per cercare di fare chiarezza sul ruolo svolto dal comune di Cartoceto. E il sindaco Rossi ha detto non esiste alcun accordo in questo momento tra il comune e chi dovrà realizzare questa centrale. Bisogna però, dice il primo cittadino, urgentemente predisporre le osservazioni da sottoporre all'attenzione del Ministero per la transizione ecologica. Lo stesso che dovrà poi concedere l'autorizzazione a chi dovrà fare questi lavori. Si stanno avviando questi sondaggi archeologici, si tratta di una carta fondamentale per capire se i terreni sono adatti o meno per l'insediamento della centrale, scrive Roberto Giungi, che poi nel suo articolo mette anche altre informazioni. A Senigallia, invece, Ponte degli Alberi, ormai ci siamo, riapre alle auto dopo cinque anni, resterà pedonale dalle 4 del pomeriggio alle 6 del mattino e sempre nei giorni festivi. Il sindaco di Senigallia dice pronti però anche a dei correttivi. Addio a Mirella De Santis, invece Mirella De Santis aveva fondato nel 1974 la boutique Mirella Pelleteria di via Cavour. Aveva 72 anni, i funerali si sono già svolti in forma privata nella chiesa di via San Martino. Adesso brevemente lo sport. Andiamo a vedere che cosa scrivono i giornali questa mattina, il Corriere Adriatico in particolare. Partiamo dalla Vis, vittoria che fa morale, importante aver battuto la fermana nel derby e adesso anche la classifica finalmente sorride. Poi c'è l'importante vittoria invece del Fano, Fano che vince in casa per 2-1 contro il Castelfidardo, Casoli sblocca il Fano, questo è il titolo, prima vittoria stagionale di Granata, il Castelfidardo lotta e si arrende con onore al Mancini. Tortori spezza l'equilibrio del derby e Cardinali pareggia, poi l'attaccante decide nella ripresa. Sotto troverete anche le pagelle, come sempre, delle due squadre, mentre nell'altra pagina dedicata alla Serie D e all'Alma parla il tecnico del Fano, Gioffre, che dice la vittoria è importante ma dobbiamo fare ancora tanta strada. elogia lo spirito della squadra, dice ora due gare ravvicinate che purtroppo non ci volevano. La Vigor invece Senigallia rallenta in casa, Fabriano pareggio d'oro, Vigor 1, Fabriano Cerreto 1, quindi pareggio in casa del Senigallia, qui parliamo di eccellenza, e poi sempre eccellenza, Iesina vittoria da rigore, affonda il Grottamare, la Iesina che vince Grottamare fuori casa per due reti a uno, Fossombrone, subito bello, il Val di Chienti non graffia, Fossombrone che vince 1 a 0, e poi l'Urbania che perde in casa contro la Sangiustese, Sangiustese senza fatica, l'Urbania è senza scampo. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna. Vi ricordo che oggi, nella giornata di San Francesco, alle 18 avremo in diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi, la Santa Messa e poi i Secondi Vespri, appunto nella solennità di San Francesco. Noi ci fermiamo qui, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhera Notizie. Arrivederci. Grazie a tutti.